Cari amici, pace e bene. Questo video l'ho preparato in risposta a Don Alessandro Minutella che si è sentito offeso, calunniato e tiffamato dal mio intervento su Canale 5 nella trasmissione Mattino 5 contotto dalla giornalista Federica Panicucci. Don Minutella lo chiamo padre perché secondo la mia piccola conoscenza catechistica il sacerdotio insieme al Battesimo fa parte dei due sacramenti intelebili, quindi anche se è stato scomunicato comunque resta sacerdote in eterno. L'offesa consisterebbe soprattutto nell'aver dichiarato che la presunta veggente, oggi sappiamo che è falsa dal decreto del Vescovo, ha affermato che insieme a padre Scozzaro e a Don Minutella avrebbe affermato, avrebbe costituito una nuova chiesa. Cosa voglio dire? Voglio dire questo che io ho riferito attraverso le mie informazioni quello che mi era stato fatto capire da Cisella quando la frequentavo. Infatti negli anni 2018-2019 ho frequentato questa signora, la signora Scarpulla, come veggente che mi ha onorato di accompagnarla in chiesa come un padre che accompagna la propria figlia in occasione del decimo anniversario di matrimonio. Perché dico questo? Perché c'era questo rapporto intimo fra persone che si convidavano e quindi ho raccolto le confidenze di questa veggente. In particolar modo ho carpito, senza volerlo, due informazioni che adesso voglio espletare. La prima informazione riguarda proprio Don Minutella, con il quale la signora Gisella mi ha detto che recitava il rosario in bilocazione. Gisella andava in bilocazione a Don Minutella a Carini e Don Minutella andava in bilocazione a Trevignano. Tant'è che Don Minutella ha incontrato Gisella, sapeva chi era perché nella foto aveva in mano il libro di Padre Umbodi, asciugherò le vostre lacrime, per cui ho dato per scontato che quello che Gisella mi ha detto in camera carità fosse vero. La seconda notizia che ho carpito era la conoscenza molto molto intima con Padre Scozzaro che la seguiva passo dopo passo come padre spirituale. Questa notizia è suffragata dalla memorabile prefazione che Padre Scozzaro ha pubblicato sul libro Testimonianze dell'amore di Maria, dove in queste undici pagine Padre Scozzaro non ha dubbio sulla santità di Gisella, sui suoi carismi, sul fatto di essere mistica e soprattutto che l'apparizione di Trevignano avrebbe offuscato tutte le altre apparizioni per il contenuto e per la veridicità. Poi perché ci sono cascato anche? Perché Padre Scozzaro è stato inserito nella chart di Noi Guerrieri nell'anno 2019-2020 come padre spirituale, anche se in realtà poi ha scritto poco. Io ricordo di averlo sentito per telefono una sola volta, se dico bugie naturalmente, la Procura della Repubblica è in grado di individuare se in quell'anno ho ricevuto una telefonata con il numero di Padre Scozzaro e quindi capire chi dice le bugie e chi no. Ma comunque a parte questo, a parte questo, quello che a me interessa è che attraverso queste due confidenze della signora Gisella ho capito che si stavano approntando due piccoli resti in contrapposizione con la chiesa dell'odiato Papa Francesco. Che questo non fosse una mia fantasia lo dimostrerebbe il fatto che andavamo a messa con sacerdoti che non dovevano assolutamente essere in comunione con Papa Francesco che poi era tesi di Donna Minutella. Ora non tocca ben ricordare cosa si desiderava in quegli anni. Basta prendere le catechesi dell'uno contro la farsa chiesa e soprattutto i libri che l'altro scriveva contro Papa Francesco e la chiesa di Roma che avrebbero fatto tremare i polsi ai cristiani. Due realtà che non me le sono inventato io ma sono due realtà che sono state e stanno sotto gli occhi di tutti. Ora nel mio intervento dell'altro ieri ho asserito che dopo queste piccole confidenze di Gisella Don Minutella è andato via e questo ne do atto. Perché è andato via? Io posso dire quello che erano le motivazioni che si dicevano allora tra noi guerrieri di luce che non è un'offesa per Don Minutella è una realtà poi la si può contestare non la si può contestare ma se su ogni parola che diciamo andiamo tutti quanti a querelare a me mi sta bene le querele. Io lo dico in modo chiaro e tranquillo ho 72 anni l'11 luglio per cui passare gli ultimi anni in carriera per me sarà un onore se la motivazione è questa non vorrei andare in carriera per truffa per raggiro per incanno e altre storie del genere ma se ci devo andare per dire queste cose qui ci vado molto volentieri questo lo dico per inciso. Allora cosa voglio dire? Voglio dire che allora si vociferava che troppi galli in pollaio soprattutto quando ci sono le donne che vogliono fare le prime donne non si va d'accordo evidentemente Don Minutella dopo l'incontro di Verona con Cisella ha ritenuto opportuno stare alla larga cosa giustissima però ciò non mi lieta di dire che invece Cisella diceva il contrario che aveva un rapporto molto intimo e in bilocazione si scampiavano le visite è chiaro che se non è vero Don Minutella oltre a querelare me dovrebbe querelare anche la scarpulla che andava dicendo queste cose di cui ho ampia testimonianza perché io per il lavoro svolto nella mia vita ho la tendenza a dimostrare e approvare tutto e quindi sono tranquillo su questo aspetto. Ora la reazione del Don Minutella io la capisco però mi ha fatto anche molto piacere perché questa reazione vuol dire che lui non si riconosce in quelle fantomatiche chiacchiere che Cisella faceva di costituire una nuova chiesa e questo mi fa molto piacere io quando ho sentito Don Minutella dire non è vero io il mio cuore ha gioito perché siamo arrivati a un punto ben preciso Don Minutella non vuole fare un'altra nuova chiesa. Certo avevo capito male anche io quindi la colpa è mia perché ho seguendo qualche catechesito Don Minutella immaginavo questo piccolo resto contro la chiesa di Francesco che avrebbe favorito e appoggiato una nuova chiesa con il grande prelato. Ora non sappiamo chi è questo grande prelato qualcuno dice tra virgolette spero di non essere accusato per questo Don Minutella ma non ci credo non ci credo perché Don Minutella è molto umile molto molto umile e quindi non non credo che avrà mai immaginato di diventare papa al contrario invece della signora Scarpulla che proprio in questi giorni ha detto io voglio rispetto rispetto visto che do rispetto al papa lo voglio anch'io quindi tra papi si comprendono. Quello che mi preme invece ricordare e soprattutto sottolineare è la risposta che Don Minutella dovrebbe dare a Cisella cioè che tutto quello che lei ha detto in questi anni sul fatto che esistono sacerdoti santi come Don Minutella e Padre Scozzaro che vanno contro Bergoglio dovevano essere aiutati a formare questo piccolo resto che oggi vengo a sapere che non è una nuova chiesa è solo una piccola spina nel fianco di papa Francesco perché Don Minutella vuole svolgere questo ruolo ognuno è libero di fare quello che crede qual è il problema il problema è che questo santo sacerdote ecco perché ho voluto fare questo video altrimenti non l'avrei fatto perché se vado in televisione ci vado per evitare che accadano ad altre persone come sottoscritto di fare grosse donazioni a falsi veggenti o falsi sacerdoti o falsi testimoni della fede il motivo è stato che mi ha chiamato l'oncobardo io penso che mi ha chiamato l'oncobardo perché forse la mia dizione proviene dal sud non è che mi sono offeso però mi ha divertito perché immagino che avella l'oncobardo sta bene con gesù lo svedese visto che è nato a palestina immagino penserà che gesù sia svedese però al di là di questa stupida polemica questa stupida polemica vorrei concludere affermando che don minutella è stato citato esclusivamente a causa dell'esternazione di gisella ecco perché ora è invito a dire che non è vero nulla e che la signora gisella si è inventato tutto quello che io ho dito perché è frutto di una leggera il mio interesse è svelare le menzogne di questa falsa veggente non ci sono altri scopi don minutella ora le faccio se mi permette due appunti non polemici ma significativi io non posso competere con lei per quanto riguarda uno scontro teologico anche se un titolo in teologia non posso competere con lei per quanto riguarda uno scontro in mariologia anche se ho un diploma universitario in mariologia non so se lei ce l'ha ma penso di sì perché ha molti titoli vuole essere solo un un appunto caritativo poi se lei vuole rispondere vuole rispondere questo non lo so so che lei non si abbassa a dialogare con persone piccole e umili come me lei preferisce i grandi dottori della chiesa ed è anche giusto che sia così allora i miei due appunti sono questi cosa pensa don minutella della frase di don posco essendo stato parroco della chiesa di don posco a palermo ed essendo anche io cooperatore salesiano cosa pensa della frase di don posco che ha affermato in modo chiaro se il papa dovesse sbagliare io preferisco sbagliare con lui glielo chiedo in modo caritativo perché voglio capire la differenza tra don bosco e don minutella uno dice che se il papa sbaglia preferisce sbagliare con lui l'altro dice se il papa sbaglia ma non per carità non è che lei le mette le dita negli occhi però dichiara che falso che bugiardo che eredico eccetera eccetera la seconda cosa che vorrei dire ed è più che un appunto è una preghiera a dio che consiste in una frase molto semplice se io ho detto il vero chiedo al signore di aiutarmi se io invece ho detto il falso in questa trasmissione che il signore voglia punirmi lo dico perché siccome io non ho altro mezzo per difendermi in fuoco il signore signore ho detto il falso punisci mi signore ho detto il vero aiutami ora cara don minutella io la saluto la saluto come avella il longobardo in compagnia di gesù lo svedese continui pura la sua opera meritoria ricca di locuzioni di fenomeni straordinari io non sono infidioso ci rivedremo in paradiso dimenticavo solo di dire una cosa io amo papa francesco anche perché anche perché dal 2023 in poi lo so che lei questo non lo accetta ma io non lo devo dividere tra il munus e il ministerium prima c'era questa storia dei due papi uno c'aveva il munus un altro il ministerium uno l'aveva rubato un altro l'aveva ceduto ringraziando il signore ma soprattutto lo spirito santo che segue la chiesa e guida la chiesa il munus e il ministerium adesso sono in un'unica persona vera falsa bugiarda non mi interessa io la penso come don bosco se il papa dovesse sbagliare io preferisco sbagliare con lui perché pietro rappresenta la chiesa di cristo perché la chiesa è di cristo quando papa francesco non piacerà più lo spirito santo sa come fare e non sarò né io né lei che è un santo ciascindote a insegnare allo spirito santo cosa fare intanto un punto l'abbiamo fermo lo spirito santo vuole papa papa francesco ce ne sono stati tanti nella chiesa che magari sono stati un po' chiacchierati lei che è un professore di teologia due tre quattro laurea non so quando l'ha presa sa benissimo chi era giovanni l'odicesimo e chi era alessandro sesto eppure a quell'epoca nessuno si è alzato a dire faccio un piccolo resto a proposito di piccolo resto ve lo dico con tanto affetto domino tela non se la prendo io vedo che molto spesso lei si arrabbia soprattutto quando identificano i nemici i massoni io non sono massone quando pietro ha rinnegato gesù per tre volte fino a quando poi gesù non è apparso prima dell'ascensione e ha detto mi ami tu pietro giovanni il discepolo prediletto ma anche gli altri a nessuno si è stato in mente di formare un piccolo resto ma hanno atteso l'opera dello spirito santo e il rinnovamento della chiesa e soprattutto le rinnovate promesse a pietro proprio per indicare che la chiesa è di dio e non è degli uomini allora ecco io le vorrei dire questo se questo le fa capire che io sono un massone perché lo aiuta a stare meglio stia sereno io sono quello che sono davanti a dio non mi sconbonco neanche un po' perché io ci ho messo la faccia e la faccia ce l'ho messo non perché cercavo notorietà lei ha detto che non mi conosce e fa bene a dirlo io nel mio piccolo ho le mie piccole soddisfazioni due onorificenze del presidente della repubblica regista di cinque firme religiosi piacciono non piacciono io la mia vita ce l'ho pulita nel senso che all'anagrafe ho nome e cognome e non ho bisogno di un soprannome al tribunale di Roma ho la pedina penale pulita quindi non ho commesso nessun reato per quanto riguarda poi la religione io mi considero uno dei più grandi peccatori sono cooperatore salesiano dal 1975 il prossimo 13 giugno farò 50 anni ringraziando il signore se mi tiene in vita perché dipendo da lui fra poco celebrerò l'anno giubilare a proposito spero che lei non voglia insegnare ai suoi seguaci di non fare il giubileo perché adesso nasce questo problema il giubileo l'ha indetto Francesco lei dice che non bisogna stare in comunione con Papa Francesco quindi immagino che nessuno si accosterà alle indulgenze perché tutte le indulgenze necessitano di un padre ave e gloria secondo le intenzioni del Papa io non vorrei stare nei suoi panni sinceramente Don Minutario lo dico con tanto affetto e con tanto amore perché una cosa è indicare il peccato e dire quello sta sbagliando perché vuole togliere il celibato un'altra cosa è dire alle persone non fate il giubileo non accostatele alle indulgenze perché quella persona è una persona falsa che non rappresenta la Chiesa però ripeto io sono ignorante lo prenda come una chiacchiera tra amici lo so che io non sono suo amico perché adesso dopo quello che ho detto su Canale 5 ce l'avrà con me però lo ripeto e concludo il mio interesse non era dimostrare che Don Minutella vuole fare una chiesa insieme a Padre Scozzaro e alla Vicente il mio interesse era affermare che Gisella quando io frequentavo l'associazione indicava Padre Don Minutella e Padre Scozzaro come persone degno con la quale formare una nuova chiesa se la vuole prendere con me eccomi ma credo invece che tutto si risolve con una semplice dichiarazione sua e chissà se non lo fa anche Padre Scozzaro dicendo noi non vogliamo fondare una nuova chiesa vogliamo essere solo una spina nel fianco di Papa Francesco ma accettiamo i precetti della chiesa e invitiamo i nostri amici ad accostarsi ai sacramenti alle indulgenze perché guardiamo la chiesa di Cristo anche perché vede Don Minutella io una volta l'ho seguita tanti e tanti anni fa e sa perché non l'ho seguita più per un motivo molto semplice adesso che glielo dico non si deve arrabbiare che dovevo fare? un testamento ai miei familiari dicendo che ai funerali dovevano fare un sontaggio per sapere qual era il sacerdote che celebrava i funerali se era in comunione o non in comunione con Papa Francesco altrimenti i funerali non erano validi e se mi fossi trovato in fin di vita in un ospedale avevo bisogno dell'estremunzione io o i miei familiari dovevamo fare un'inchiesta per sapere chi era un sacerdote che non era in comunione con Papa Francesco vede Don Minutella lei fa tanti buoni insegnamenti perché riconosco che lei quando parla di catechismo è bravissimo su questo non c'è dubbio però poi mi casca dal mio punto di vista in una piccola puzzanchera di acqua di 2-3 centimetri ma davvero lei intende convincere oggi 50, 100 mila non so ma milioni di cattolici a non accostarsi ai sacramenti a non accostarsi all'anno giubilare perché altrimenti si è in comunione con Papa Francesco quindi la chiesa è di Papa Francesco è lei è lei che sta affermando che Papa Francesco è al posto di Gesù allora concludo dando la mano della pace non perché condivido quello che lei dice ma dando la mano della pace perché io non ce l'ho con lei sono anni che non lo seguo sono anni che non ascolto una sua catechesi l'ho seguita ieri sera perché una persona sul mio profilo mi ha detto vai a vedere che Don Minutella parlerà della trasmissione di questa mattina sicuramente parlerà anche di te in realtà di me non ha detto nulla mi ha solo chiamato Longobardo e in quel momento mi sono sentito veramente lo dico con sincerità divertito e soprattutto entusiasta perché ripeto con una bella Longobardo sicuramente ci sarà stato bene l'accostamento con Gesù lo svedese che è nato a Palestina ma secondo lei è vissuto in Svezia pace e bene pace e bene nell'amore di Dio e della Madonna io sono devoto di Paria Ossiliatrice di quella statua che lei aveva in parocchia quindi almeno riconosciamo le nostre origini anche se non riusciamo a riconoscere compiacenti le nostre idee grazie continuo a fare il suo lavoro Don Minutella perché tutti siamo responsabili davanti a Dio lo ripeto anch'io che sono l'ultimo anzi perché sarà un onore se lei seguirà questo video qualcuno lo seguirà per lei buona giornata pace e bene grazie a tutti